Circa 2.400 i ragazzi provenienti da 40 istituti marchigiani fino a domani saranno al Palaprometeo Estraliano Rossini di Ancona, in occasione dell'edizione 2018 di Orienta Marche. L'evento consiste in un percorso di orientamento al mondo della scuola e del lavoro, fortemente voluto dall'assessorato nell'ambito del POR FSE 2014-2020, e rivolto agli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo è aiutare i ragazzi a riconoscere i propri talenti, offrire loro opportunità di introspezione e occasione per mettersi alla prova, per valutare le proprie attitudini e potenzialità ed individuare i punti di debolezza, ponendosi obiettivi di miglioramento, come ha detto anche l'assessore regionale Loretta Bravi. Abbiamo degli input, non è una fiera, non c'è un marketing dietro per cui noi dobbiamo chissà quali prodotti elaborare o pubblicizzare. No, sono giornate nei quali si propone l'offerta marchigiana in tutta la sua diversificazione nel pomeriggio e la mattina invece è un momento didattico. È un'esperienza con la quale dobbiamo dare degli input e vogliamo dare degli input e quest'anno abbiamo scelto di farlo con dei giovani. Abbiamo chiamato dei testimonial che hanno aperto delle opportunità nella loro vita e quindi dentro la fragilità che ogni scelta implica, ma dentro la bontà di un bene che sta emergendo. Quest'anno poi abbiamo anche chiamato gli artigiani perché vogliamo sempre più avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro. L'assessore Bravi ha dato anche qualche consiglio a questi ragazzi. Scegliere con degli indizi sul presente non bisogna strafare e quindi anche secondo le proprie attitudini non pensare che esistono lavori di serie A o di serie B. Non è importante quello che facciamo ma come lo facciamo e questa è la prima questione che mi interessa. Un'altra questione che mi interessa come insegnante e che auguro a questi ragazzi che sono stati attentissimi questa mattina e sono veramente commossa della capacità di essere così attenti e così silenziosi, possono trovare degli adulti capaci di accompagnarli perché ognuno di noi ha bisogno di un accompagnamento e di un'accoglienza. Argomenti delle esperienze e delle testimonianze che si susseguiranno saranno l'alternanza scuola-lavoro, il sistema duale, l'università e l'alta formazione, la scuola e il mercato del lavoro ed infine le start-up. Nei numerosi stand allestiti, cospazi per le scuole, le aziende, le associazioni di categoria, i centri per l'impiego, i maestri del lavoro, le università, i ragazzi potranno acquisire informazioni su tutte le opportunità dell'offerta formativa delle marche.